il mazzo della settimana eccoci qua con il nuovo appuntamento dedicato al mazzo della settimana di yu-gi-oh e questa settimana cosa guardiamo che mazzo è questa settimana signorina il deck galaxy eyes 2021 assoluti assoluti con il nego fotonico occhi galattici che sarà il protagonista ma andiamo a vedere la lista del mazzo della settimana main deck dal nostro portadec un ficciolo di calma corporation che c'è che c'è che c'è che c'è vediamo se boss riuscirà a dire correttamente tutta la lista cosa mai successa mai 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 successa e allora si parte con drago fotonico occhi galattici 3x drago riverbero occhi galattici la novità 2x la novità da lds number poi orbitale fotonico 3x soldato galattico 3x vaporizzatore fotonico 3x distruttore fotonico 2x sfidante galattico 2x cavaliere galattico 1x avanzante fotonico 1x stregone galattico 1x danger bigfoot 1x pericolo uccello di tuono 1x fioritura di cenere e gioiosa primavera 3x la gioiosa primavera poi le carte magie del nostro deck galaxy eyes 2021 santuario fotonico fotonico 3x spedizione galattica 3x la melodia del drago che si risveglia 2x baratto 2x trans galattica 1x rinforzi dell'esercito 1x mostro pardon mostro ressuscitato 1x e 0 galattico a chiudere la lista del nostro main deck che non comprende carte trappola andiamo a leggerci la lista del nostro extra deck la leggiamo dalla stampata che ci siamo fatti dal nostro sito lppcollecting.it la puoi stampare anche tu e allora extra deck 1x numero 90 signore fotonico occhi galattici 1x numero 62 drago fotonico primordiale occhi galattici 1x numero 38 drago titanico galattico annuncetore di speranza tutto ruffiato 1x cyber lama drago occhi galattici 1x cyber drago occhi galattici poi 1x cyber drago dai per 1x cyber drago infinito 1x arsenale divino a a zeus tuono del cielo 1x galaxia signore feudatario stellare 1 per drago esplosione fotonica stella vassallo 1 per neo drago fotonico occhi galattici 1 per numero 107 drago tacchionico occhi galattici 1 per drago fotonico armatura completa occhi galattici e 2 per drago vampata solare occhi galattici a chiudere la lista del nostro del galaxy ice 2021 per come ne è data il nostro signor cameraman tuttavia se tu hai qualche idea diversa rispetto a questa lista se hai una tua che lista personale se hai un tuo motivo per costruire il tuo mazzo scrivi qua nei commenti la tua perché no eh com'è questa lista ti piace ti gusta scrivi anche la tua opinione su questa lista in particolare io so che il drago fotonico occhi galattici è una delle carte che più piacciono ai giocatori di yugioh e allora prego 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 ognuno di voi tu che ci guardi scrivi pure la tua lista scrive pure il tuo commento signorina della regia di instagram a parte il telefono che sta su un alto stanno chiamando per dire la loro opinione stanno chiamando per dire la loro opinione ma ragazzi non dovete chiamare dovete scrivere sotto i commenti scrivete scrivete il commento abbiamo dalla diretta della live qualche commento no 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 annunciato perdonatemi perdonatemi quindi diciamo di solito nessuno sempre a fare le domande le fanno al volo quando capita c'è qualche qualche dubbio qualche chiarimento qualche inciuttezza sabato mattina sabato mattina sabato mattino dovremo fare il pomeriggio alla sera la live del mazzo della settimana perché almeno vi potete preparare dovremo fare sabato sera o sabato sera bene 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 e allora dai ragazzi da galaxy ice 2021 mi auguro che sia stato il tuo gradimento commenta il video condividi il video seguici su instagram seguici su youtube seguici su facebook seguici dove vuoi per strada dove e niente dai ragazzi allora andiamo a mossa alla presentazione dalla signorina dell'orgio di instagram che ha fatto la regia dal signor cameraman che ha costruito il mazzo dal mister cooney che ha fatto il montaggio è tutto ci vediamo alla prossima and goodbye ciao ragazzi ciao iscriviti al canale